e tra pochissimo nel nostro tg in apertura la cronaca operazioni antidroga nella provincia barletta andriatrani è stata scoperta una rete ben organizzata di vendita di cocaina e sostanze stupefacenti 4 i comuni interessati e poi parleremo di sanità e partita la campagna anti influenzali al policlinico di bari la raccomandazione come sempre di sottoporsi alla doppia immunizzazione contro l'influenza e il covid e poi il turismo a rimini è partito il ttg la fiera dedicata proprio al turismo poi è basilicata protagonisti confronti idee e progetti per una nuova industria basata sulla verità il volontariato l'associazione di volontariato babbo natale barese in visita al villaggio 30 ore per la vita a gebeo di bari queste ed altre notizie tra pochissimo nel nostro tg